che si chiamava panini durini erano veramente durini i panini erano veramente duri i panini porca troia ho mangiato mezzo panino grazie a voi lui l'ha cotto normale io cotto di fraga e c'era la scelta hai fatto bene questo condimento invece è giusto Fai, giusto? senti, i funghi li ho dovuti fare i funghi li ho dovuti fare e me ne frega di effe quello che dice e che non me ne frega niente ho dovuto farli tutti sennò pignavano brutto il colore hai fatto benissimo funghi, pancia e tazza e poi io pensavo che i libri erano tutti diversi invece sono tutti della salina bello grazie a voi no 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 cosa è questa figata ma che merda sì, infatti è vero 120 grammi mi sembra di più però 120 grammi se tu hai detto che sono 120 grammi yes buon appetito ciao ragazzi buon appetito quindi non contengono quasi nulla easy ma infatti li ho fatti tutti perché erano quelli già tagliati se no dopo mi venivano schifezza dopo erano già brutti da vedere per cui lo mangi F basta al pesto con tonno e mozzarella con tonno con tonno con tonno con tonno basta al pesto di che cosa ma com'è pesto e tonno pesto di che effe pesto di che cosa mmm ma oggi lasagna in teoria la domenica si mangia no dai non dirmi queste cose qua c'è il mio capello un pesto alla genovese c'è il mio capello pesto alla genovese col tonno e la mozzarella ma è fredda allora spaghetti cozzo e vongo e caccia e pepe pasta al sugo patate lesse e bistecca anche fredda si può mangiare sia se non ha tipo una pasta fredda ci sta c'è un ragazzo che mangia fritto misto mmm gnocca la romana boad linguina e frutti di mare con buone parpellone e pangrattato buono grazie eeeh cosa c'è capessante gratinato e gamberoni alla griglia ma buono è la madonna oggi mangio carne ai perri la mangio le quaglie io il cinese mmm io pasta al sugo io il pesto rosso con le noci reggiatta di polvo guarda che sprosso quello tipo la siciliana col pomodoro e nena hai mai fatto un pesto rosso sì sì tipo forse ce l'ho dall'altra parte tipo un pesto ma non è proprio pesto hai mai voluto fare i cavatappi scusa mi piacevo le linguine no no ma dico perché prendi cavatappi questi perché mi piacciono ma parliamo succhetti ragazzi ho tappi questi parliamo succhetti sapete che cosa mi piacerebbe un giorno imparare a riconoscere i funghi cazzo raga vai nei boschi e prendi i funghi facciamo cini adesso un po' si è un po' dimagrito noi ci controlliamo ogni giorno ogni giorno sei proprio un parolone cosa? che ti controlli il peso no ci controlliamo il mangiare c'è una cosa posso